In questo esempio, che è molto usato all'inizio dei corsi di programmazione logica, vediamo come si può colorare una mappa in maniera tale che le regioni limitrofe, per esempio in questo caso stati limitrofi, non abbiano lo stesso colore. C'è un teorema che dice che su un piano, se la mappa è planare, è possibile colorare una mappa indipendentemente dalla complessità, cioè dall'articolazione e della numerosità degli stati e delle regioni rappresentate con solo i quattro colori. Per esempio in questo caso abbiamo schematicamente rappresentata una piccola parte dell'Europa, abbiamo l'Italia, la Svizzera, l'Austria, Germania, la Slovenia, la Croazia, l'Ungheria, il mare Adriatico. Possiamo semplicemente utilizzare come predicato, per risolvere questo problema, un predicato neighbor, vicini, che ha due argomenti che sta a significare che due regioni sono confinanti. Per esempio l'Italia confina con la Slovenia, l'Italia confina con il mare Adriatico, il mare Adriatico confina confina con la Slovenia e così via. Quindi possiamo definire un predicato colori che rappresenta una relazione fra tutti gli stati, le regioni che sono comprese nella mappa, ciascuna delle quali rappresentata da una variabile, perché poi quella variabile doveva essere stanziata su un colore, il colore invece sarà rappresentato da una costante. Quindi Italia, Slovacchia, Croazia, Svizzera, Austria e così via saranno legati da una relazione e quindi questa relazione è essere colori sulla mappa con il vincolo che non ci possono essere due regioni limitrofe che hanno lo stesso colore. Poi possiamo anche mettere per semplicità, per comodità, anche un vincolo ulteriore, ad esempio di voler rappresentare una di queste regioni con un determinato colore, per esempio il mare lo vogliamo bleh. Quindi settiamo già in partenza la variabile si a bleh. Dopodiché andiamo a semplicemente rappresentare in maniera dichiarativa, quindi facciamo una traduzione in forma, diamo una rappresentazione dichiarativa di quelle che sono le reazioni geografiche significative nel nostro problema, che sono solo quelle di vicinanza planare. Quindi diciamo per esempio che l'Italia confina con la Svizzera, l'Italia confina con l'Austria, l'Italia confina con la Slovenia, l'Italia confina con il mare Adriatico e così via. Qui per esempio la Slovacchia confina con l'Austria, nonché con la Slovenia confina con l'Austria, nonché con la Croazia, eccetera. Bene, allora, posto che questa parte della clausola rappresenta in maniera corretta tutte le relazioni di vicinanza che ci sono fra le nazioni che sono interessate da questa porzione di mappa. Andiamo a vedere invece quello che è il data base di fate, su cui poi dopo questa clausola dovrà andare a meciare. Semplicemente quello che facciamo è elencare tutte le possibili combinazioni di vicinanza di colori. Quindi il rosso può stare vicino al verde e il verde può stare vicino al rosso. Il rosso potrà stare anche vicino al ble, potrà stare vicino al giallo, qui abbiamo 4 colori, rosso, verde, giallo e ble, ma non potrà stare il rosso vicino al rosso. Quindi non troviamo rosso vicino al rosso. Non troveremo verde vicino al verde, non troveremo blu vicino a blu, non troveremo giallo vicino a giallo. Tutte le altre combinazioni le troviamo. Detto questo, come vediamo qui, quello che possiamo fare dopo aver compilato il programma è quello di lanciare il gol e vediamo quello che succede. Succede che appunto alla variabile si viene immediatamente assegnato il colore blu. Dopodiché, questa è una possibile soluzione, all'Italia e Croazia nonché alla Germania viene assegnato il colore rosso e vediamo che Italia, Croazia e Germania non confinano, alla Slovenia, alla Svizzera e alla Slovacchia viene assegnato il colore verde, Slovenia, Svizzera e qui la Slovacchia non è rappresentata, comunque non confinano, Austria, Polonia e Mar Adriatico avranno il blu, Ungheria e Repubblica Ceca il giallo, perché Ungheria e Repubblica Ceca qui non è rappresentato ma non confinano, non è rappresentato sulla grafica, ma è rappresentato qui nel database. Ovviamente questa non è l'unica soluzione, ce ne saranno altre, se provochiamo il backtracking ce ne saranno altre, per esempio l'Italia, la Croazia e la Slovenia potremo colorarle di rosso, vedete che anche le combinazioni possono cambiare ovviamente, non solo i colori, e quindi avremo tantissime soluzioni che si distinguono sia per il colore che per l'associazione di uno stesso colore a diversi gruppi di stati.